L'incidente è questa sera, mercoledì 24 gennaio, intorno alle 20, in Corso Grosseto, all'incrocio con Via Chiesa della Salute. Una Fiat Bravo, guidata da un 65enne, dopo aver forse fatto una manovra alzardata in Corso Grosseto, ha urtato una Renault Clio e ha finito la soccorsa contro un lampione dell'illuminazione pubblica. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, illeso il giovane che si trovava a bordo della Clio.